Dopo tanti anni un progetto completamente nuovo, ciò che ho sempre sognato, perché essere incisore per me è più di un mestiere e questo non è il coronamento ideale, il perfetto incontro tra arte e passione. Passione come quella di Peter Mas per le barche. In vent'anni ne ha possedute molte, per questo ha riflettuto a lungo prima di decidere. Alla fine ha scelto la barca a cui è più legato, quella che gli ricorda le emozioni più intense, sensazioni che vuole rendere eterne per assaporarne il gusto ogni volta che lo desidera. Ma non con un quadro o una scultura esposte allo sguardo di chiunque, no, con qualcosa di più prezioso e segreto da condividere soltanto con pochi intimi. E Montegrappa gli ha offerto il modo per coronare questo sogno. Un originale senza copie. Anche in questo consiste la novità del progetto. Montegrappa mette a disposizione tutta la sua tradizione, l'esperienza nelle tecniche di lavorazione artigianale più esclusive, la creatività italiana e il suo talento artistico per realizzare un gioiello per scrivere che non ha paragone. Se sinora il lusso era few for few, pochi oggetti per pochi eletti, Montegrappa si è spinta decisamente oltre. Una penna unica per un cliente unico. Portre penna, una stilografica d'oro bianco o rosa, il cui fusto e cappuccio sono lavorati con un'incisione a diamante di straordinaria profondità, che consente di mettere in ulteriore risalto lo spazio ovale dedicato all'incisione a mano, dove il cliente può scegliere esattamente cosa raffigurare. Non una semplice dedico personalizzazione, un'autentica scultura che rifletti i suoi valori e le sue passioni, stagliandosi sull'oro della penna come una firma, luminosa e inconfondibile. Sul cappuccio posso aggiungere una frase, un simbolo. Tutto inciso con tecniche antiche, tramandate di generazione in generazione, che richiedono una perizia d'artista ormai rarissima al mondo. In bottega incisioni di Giovannelli impieghiamo spesso il bulino a mano. Ma solo Monte Grappa ci ha chiesto di utilizzare questa tecnica in esclusiva sui loro gioielli per scrivere più prestigiosi. Lavorazione difficile su una penna, ma che consente di realizzare autentiche opere d'arte, di dare vita ad un'immagine per la prima e unica volta. Un ritratto, il simbolo segreto di un'intesa, un soggetto dal significato speciale, un dono dal grande potere evocativo. Gioielli che rendono una passione, come la barca preferita di Peter Mas, eterna. Solo pezzi unici. Oggetti d'arte, con in più la garanzia assoluta data dal marchio Monte Grappa. Opere irrepetibili, che firmo con autentica emozione, a coronamento di un processo produttivo lungo oltre due mesi. Dopo la firma, nessun numero. Numerarle non avrebbe senso. Il numero non potrebbe che essere uno. Ogni portrepene è unica e differente. È il ritratto di una passione singolare. È il più esclusivo dei gioielli per scrivere Monte Grappa. Un prezioso simbolo di complicità tra un marchio d'eccezione e un cliente d'eccezione. Grazie. 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 Grazie.